Nella notte sono proseguite le ricerche alla centrale idroelettica di Bargi dopo la tragedia di martedì che hanno rinvenuto i due corpi degli ultimi dispersi. Il primo trovato appunto nella tarda serata di giovedì è il 37enne pisano Alessandro D'Andrea, il secondo il 68enne napoletano Vincenzo Garzillo. Il bilancio quindi ammonta 7 morti e 5 feriti. Le ricerche sono state portate avanti dai sommozzatori dei vigili del fuoco. Pistoia Torna Capitale del Giallo accade in occasione del 14esimo Festival del Giallo che porterà in città fino al lunedì 15 aprile importanti autori del popolare genere letterario, cuore della manifestazione, la biblioteca San Giorgio. L'apertura nella sala maggiore di Palazzo Diggiano dove si è guardato alla realtà e al futuro dell'investigazione tra gli ospiti di vice capo della polizia Antonio Rizzi e la criminologa Anna Maria Giannini. In occasione della giornata pistoiese, ospite del Festival del Giallo, il prefetto Vittorio Rizzi, vice capo vicario della polizia, ha visitato la questura di Pistoia. Qui ha incontrato il questore Marco Dal Piazzi, funzionale e le organizzazioni sindacali di una rappresentanza del personale della polizia di Stato e dell'amministrazione civile dell'interno. Nell'occasione al prefetto è stato donato un manufatto in ceramica realizzato dai ragazzi della Fondazione Mike di Pistoia. Si è svolta presso la fortezza Santa Barbara di Pistoia la cerimonia per l'ottantesimo anniversario dell'uccisione dei martiri della fortezza. I quattro ragazzi, poco più che ventenni, che il 31 marzo 1944 vennero fucilati dalle forze della Repubblica di Salò. Le massime autorità cittadine hanno reso omaggio ai caduti con una corona d'oro. Presenti anche alcune scuole del territorio che hanno letto le commoventi lettere dei condannati a morte alle loro famiglie. Oltre 49 mila euro di finanziamenti per i 10 progetti dell'area di Pistoia, vincitori del bando, siete presente con i giovani per ripartire, realizzato da Cesvot e finanziato da Regione Toscana Giovani Sì, in accordo con il Dipartimento per le Politiche Giovanili e il Servizio Civile Universale con il coltributo delle 11 fondazioni bancarie della Toscana. Il bando punta a promuovere e qualificare il ruolo dei giovani nell'associazionismo toscano, nonché di facilitare il ricambio generazionale all'interno delle organizzazioni. Il coach della extra Pistoia Nicola Brienza ha presentato la sfida di domani sera a Pesaro. I biancorossi scenderanno sul parquet alle 20.30 con l'obiettivo playoff e per riscattare la sconfitta dell'andata, forse la peggiore gara giocata al Palacarrara. Come sempre sulla nostra rete seguiremo la sfida con la diretta dalla sala stampa di Pesaro dalle ore 22.15 circa. Ancora forti dubbi sullo svolgimento della partita di domenica alla Melani-Pistoiese-San Giuliano City. L'unica cosa certa è che se si giocherà sarà sicuramente a porte chiuse, perché la società non ha fatto richiesta del servizio anti-incendio. In caso di rinuncia da parte degli arancioni la squadra sarebbe esclusa dal campionato.